Secondo anno di Advisoring di Security Brokers a Banca e Sicurezza. Quali sono le novità di questa edizione, qual è il bilancio e come sta cambiando lo scenario degli attacchi e del contrasto al cybercrime? Alla fine del secondo giorno, di due giorni belli impegnativi perché siamo tutti provati specialmente la parte organizzativa e chairman eccetera, io guardo sempre gli occhi delle persone in sala mi giro le sale, le trotterello e poi ascolto i gossip, i commenti, pare che ci abbiamo preso di nuovo le rapine allo sportello con la pistola, gli attacchi sono sempre di meno, quindi è bene perché la violenza va a scendere perché poi sono cose pericolose, purtroppo i cyberattacchi aumentano però ecco che ha giustificato questo cambio e l'aumento delle sessioni. Una cosa che mi ha fatto veramente piacere è che abbia creduto nelle mie idee di fare le demo quindi un giorno e mezzo di slide, bene, poi andiamo a fare toccare con mano le soluzioni che ottime aziende italiane e estere hanno da offrire e hanno da proporre. Giudizio oltre il positivo, ma non perché lo dico io, che sono proprio l'ultima ruota del carro anzi è come chiedere al tuo host se il vino è buono, ma il pubblico, i vendor, i contatti. Una cosa che mi ha fatto veramente piacere perché nel mondo finance non è semplice è quello che si chiama info sharing, quindi non solo la costruzione di una rete, network eccetera ma hanno iniziato a raccontarsi le cose, a scambiarsi le esperienze. Mi ha fatto veramente piacere l'intervento del relatore di gruppo San Paolo Intesa perché, l'ho detto anche pubblicamente, ero pochi giorni fa a Zurigo per IC Square c'era il chief security officer mondiale di UBS, quel signore, il relatore di San Paolo sono stati i soli che ho visto io nel primo semestre dell'anno a raccontare quello che hanno fatto all'interno, le cose belle, le cose brutte, incidenti, successi, una cosa che ho visto ha colpito il pubblico, il danno alla banca, all'istituto finanziario può accadere anche per third party, quindi ci sono stati degli attacchi a fornitori del gruppo San Paolo, piuttosto che delle invenzioni, delle cose finte per dar fastidio e questa è una cosa che non si era ancora prese in considerazione pensiamo sempre che la minaccia arrivi dall'interno, pensiamo al ransomware che ahimè è sempre più a salire crescente però vedo che questi maledetti di cybercriminali hanno un'alta creatività un'elevatissima creatività e con eventi come questo che gli si va a cercare di non essere un passo indietro ma un passo avanti Una delle parole chiave di questa edizione è stata awareness, consapevolezza diffondere la consapevolezza dei rischi e delle contromisure a tutti i livelli Sicuramente sì perché poi qua siamo bene o male operatori del settore e parliamo security e facciamo security ma io continuo a dire finché ce le diciamo tra di noi le cose, le sappiamo già è importante andarlo a spiegare al management, al board, al CEO che molto spesso magari presi da tardemila altri impegni merger and acquisition eccetera eccetera forse alcuni di loro fanno l'errore di sottovalutare la minaccia cyber quindi un motivo in più per essere qui al convegno ABI Un altro messaggio che è uscito da questa edizione dell'evento ABI è che la sicurezza deve essere una base condivisa, garantita mentre la competizione si deve giocare su altri piani Esattamente, un po' come io ho tanti colleghi ricercatori esteri che si occupano di security che dicono se tu sei contagiato anche io lo sarò cioè criminale non è che sta a fare distinzione tra la banca A e la banca B il paese A e il paese B poi ovviamente ci sono le ondate, ci sono i periodi più caldi per alcune aree del mondo come ha ribadito in più di un ordellatore il cybercrime va dove c'è il soldo ma nel contempo se un gruppo bancario fa acquisizione in una parte del mondo di altre banche è un problema che arriverà anche lì saranno attacchi che arriveranno anche lì quindi giustissimo come hai detto tu primo infosharing e la condivisione delle informazioni perché è una minaccia per tutti e poi ognuno si fa giustamente la sua strategia il suo marketing, le sue pensate e va a distinguersi ognuno come crede ed opportuno farlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti